No, no, all'inizio facevo parte del servizio culturale, critica letteraria o cinematografica. Comunque mi annoiava maledettamente fare quelle cose. Sono passata al servizio politico dopo il maggio, ma in realtà non completamente. Mi hanno lasciata in bilico tra le due rubriche. Il fatto è che il maggio li ha presi assolutamente in controvierci e mi ha approfittato. Mi ha portato delle cose, delle conversazioni con della gente che avevo potuto incontrare grazie a Jacques o tramite certi amici di Jacques, dei ritratti di Convendie o di Gézmar e questo mi ha permesso di cambiare le mie posizioni qui dentro. Di colpo mi hanno classificata come specialista dell'ultrasinistra, a pensarci è piuttosto comica. In poco tempo, dopo il maggio, la situazione è peggiorata perché i miei articoli mi interessavano di meno. I tempi erano cambiati. Mi sono tranquillizzata dicendomi che avevano paura di me. In realtà so benissimo che non è così semplice. Voglio dire che facevo uno sforzo per cambiare argomento, per non parlare più soltanto degli studenti, per poter pubblicare delle cose sugli operai. Ho proposto varie inchieste. E' abbastanza incredibile il fatto che ormai mi batto ogni settimana perché loro ammettano che bisogna assolutamente parlare di questo e di quest'altra cosa e nello stesso tempo so benissimo che non sarò capace di scriverlo. Per una settimana lavoro come una matta su un argomento e non concludo niente. Forse è una questione di stile. Non so se capite cosa voglio dire. C'è uno stile che è quello della ditta. Ascoltando le trasmissioni si ha veramente l'impressione che sia sempre la stessa persona a pensare e a scrivere tutto quanto. Beh, io mi accorgo che per parlare delle cose di cui voglio parlare quello stile lì non funziona. Ma non ne trovo un altro. In ogni caso almeno una volta ci ho provato. Sì, nel servizio che mi hanno bocciato poco fa, quello sui fatti della fabbrica. Questo deriva anche dal genere di cose trattate come se queste cose ti costringessero a scrivere o a parlare in un modo diverso. Insomma non so. Più vado avanti meno mi sembra di capire quello che sta succedendo. Le cose che mi interessano in Francia mi diventano completamente opache. Io sono una corrispondente americana in Francia che non corrisponde più a noi. Ci fa una prova per favore? Prova 1, 2, 3, 4. Prova 1, 2, 3, 4. Qui è Susan David, ok? Ok, quando vuole. This is Susan DeWitt reporting in Paris for the American Broadcasting System. To each historical epoch, to nearly every moment of public life, there is a corresponding key word which expresses at once the ambitions of the ruling order, the sensibilities of public opinion, and sometimes the two. A word which endures, marking a slice of history. Can we do it again? It's... It wasn't any good. Cosa c'è Susan? Possiamo ricominciare? Ok, un momento. Vada, registro. Vada, Susan. This is Susan DeWitt reporting in Paris for the American Broadcasting System. To each historical epoch, to nearly every moment of public life, ad ogni epoca, to nearly every moment of public life, corrisponde una parola chiave che esprime ora l'ambizione del potere, ora una sensibilità dell'opinione pubblica, e talvolta entrambe. Lo so, lo so che cosa che non va. Cosa c'è Susan? Tutte fesserie, ecco cosa c'è. È soltanto ridicolo. Diventerà tutto freddo. Serpente coi sonagli, serpente con gli occhiali. Sempre incazzata, tesoro? Non credi che batti dopo ieri sera? Avevo voglia di scopare, tu no. È la vita. Tu mi provochi. Anche se non avessi voglia di essere incazzata, dicendo così mi fai venire voglia di essere. D'accordo, adesso sono io che ho fatto male a dirlo, però le fai pesare troppo le noia che hai sul lavoro. Senti, non trovi che si potrebbe parlarne con più calma? Le cose sono due. Uno rifiutano di pubblicare i tuoi articoli, e due non riesci a scrivere. E sai, capita di non riuscire a scrivere, mica ti deve impressionare. Succede come per il traffico. Che c'entra il traffico? Ma sì, sei bloccata, no? Sono bloccata? Non ho mica detto con cattiveria. Eh, insomma, basta, finirò col chiedermi cosa facciamo insieme. Non finire, comincia. Cosa comincia? Comincia a chiedertelo. No, voglio dire, ci troviamo, andiamo al cinema, si mangia, si va a letto, si scopra, tutto qui, più o meno. Più o meno. Dimenticanza, ogni due o tre mesi litighiamo. Adesso hai detto una cosa molto interessante. Grazie. Sì, quando parli di quello che facciamo insieme, dici, ci troviamo, si va al cinema, che so io, si mangia, si va a letto, si fa l'amore. Ridillo, voglio essere sicura che è quello che hai detto. Sei una gran scassa, sai. Ridillo? Andiamo al cinema. Mangiamo, scopriamo e aggiungo che sono stufo. E aggiungi che sei stufo? Sì. Ebbene, io ti dico che da ieri io mi sgolo a dirti che se vuoi parlare di quello che si fa insieme, di quello che va e di quello che non va, devi dirne di più. Di più. Ieri, per esempio, tu giri una cosa di pubblicità, il mio articolo è bocciato dall'agenzia, litigo con il redattore capo, ci si trova, si va al cinema, si mangia, si va a letto, si fa l'amore, tu vai a fare il montaggio del tuo coso e io me ne torno all'agenzia. La vedi la differenza tu, io? Non bleffare, dici esattamente quello che ho detto io. Ah, se permetti non credo proprio. Per una volta non credo proprio. Quando pensi a noi, tu pensi uno, due, tre. Beh, io sono d'accordo con le tue rubriche cinema, mangiare e amore, ma siccome tu non sei soddisfatto, io dico che per pensare la tua insoddisfazione devi pensare a quello che c'è intorno a queste rubriche. Aspetta un momento, pensare la mia insoddisfazione? Sì, pensare. Allora è così? Beh, sì, è così, nient'altro. Dovevo immaginarlo. Sei tu, sei stato proprio tu a dirmi che non si può concepire la sessualità in sé? Sì. Beh, visto che l'hai detto, fallo. Per una volta che si tratta di te. Il tuo ma cosa facciamo insieme di prima vuol dire avere in merito a noi una sola immagine in testa. Mettitela sulla fronte. Avere questa immagine in testa la mano di una donna sul coso di un uomo. Pensare, pensare solo questo ti soddisfa meno di tre anni fa. Quando finisce questo happening? Momento. Quest'immagine io ce l'ho in testa come te. Come te! E so benissimo cosa faccio con te, l'hai detto. Si mangia e si scopa. Ma per poter pensare a questo piacere, alla sua evoluzione, per me c'è bisogno oggi di un'immagine di te che lavora. Guarda l'inquadratura. Roberto, porta più avanti il mille. E di questa immagine qua? E di questa immagine, un'immagine di me al lavoro. Cosa c'è, Susanna? Sono fesserie, è soltanto ridicolo. Vedi, è un po' più complicato. Allora, mi parli del tuo lavoro? Sei uno strazio. Non c'è proprio niente da dire. Ma allora perché continui a farlo? Perché ci permette di vivere, di vivere così, tra l'altro. Sai benissimo cosa ha voluto dire per me la decisione di fare soltanto pubblicità. Anche tu eri d'accordo col mio atteggiamento. Lo trovavi molto più onesto. Sono tre anni che vivi su questa onestà. Forse potremmo tirare le somme, no? Sono stufo di questa discussione cretina. Ne riparleremo stasera. Mi devo spicciare, va bene? Grazie a tutti.